È un progetto che prevede la digitalizzazione del ricco patrimonio che fa della Federiciana una delle biblioteche più importanti della Regione Marche e da ieri si è arricchita di nuovi strumenti che facilitano l'accesso alle risorse documentarie attraverso la rete consultabili nel sito sistemabibliotecariofano.it Si tratta di un elenco di riviste che comprende circa 1800 testate in ordine alfabetico e i nuovi studi fanesi la rivista annuale invece che la biblioteca pubblica dal 1986 e che raccoglie saggi storici e letterari che studiano e approfondiscono la vita di personaggi e le vicende legate alla storia del nostro territorio Tutti questi volumi sono ora interamente disponibili e scaricabili in formato pdf per un totale di 233 articoli È stato un processo quello della digitalizzazione importante, impegnativo che però garantisce un'ulteriore valorizzazione e fruibilità dell'enorme patrimonio della biblioteca federiciana Le due risorse accessibili online gratuitamente sono degli strumenti che vogliono avvicinare non solo gli studiosi al patrimonio della federiciana ma anche i cittadini informandoli su una delle ricchezze della città Noi ci siamo concentrati su una parte dell'emeroteca che riguarda le pubblicazioni periodiche non quotidiane di carattere nazionale Nel 2015 ci concentreremo sui periodici quotidiani sia nazionali che locali Nel 2016 lavoreremo invece sull'emeroteca locale per cui nell'arco di tre anni dovremmo e vorremmo raggiungere questo obiettivo di avere una risorsa online contenente tutto il nostro patrimonio periodico posseduto appunto dalla federiciana Nuovi studi fanesi è consultabile dalla pagina pubblicazioni mentre le riviste della biblioteca si trovano sotto ricerca e catalogo nell'indice a sinistra e meroteca Oltre ad una parte introduttiva si possono esaminare le varie testate elencate in ordine alfabetico Lo studioso che sta facendo una determinata ricerca sa che cosa è contenuto nella biblioteca federiciana Quindi se vale la pena recarsi, telefonare, fare una richiesta tramite mail o appunto come nel modo che ritiene più opportuno per poter proseguire la sua ricerca